Allora, terza ronda Italia del Friuli, si svolgerà 6-7 febbraio, come partenza, come location abbiamo scelto quest'anno la storica villa Manin di Passariano, le passate edizioni eravamo a Palma Nova, quest'anno abbiamo cambiato, abbiamo cambiato perché a me piace portare e far conoscere il territorio e quindi ho scelto proprio questo biglietto, perché la partecipazione, la gara, la partecipazione anche straniera, quindi abbiamo equipaggi sia da fuori regione, quindi italiani, ma abbiamo anche equipaggi esteri, quindi secondo me portare Villa Manin anche all'estero è una cosa che mi fa molto molto piacere. Dopodiché la prova speciale, il territorio dove proprio viene fatta veramente la prova cronometrata, sono i comuni di Rivignano e di Varmo, ho mantenuto invece qua la stessa della scorsa edizione perché i piloti partecipanti che sono venuti l'anno scorso si sono trovati molto bene, è piaciuta, è una prova molto tecnica e quindi ho preferito quella invece di mantenerla. Adesso aspetto i preparativi, ormai sono già alla fine, stiamo lavorando giorno e notte anche con i miei ragazzi che li ringrazio perché stanno facendo dei sacrifici enormi, perché purtroppo il cronometro ormai è al conto della rovescia e per sabato deve essere tutto ok, devono essere un 50-60 equipaggi e quindi è anche buono visto i periodi che ci sono, perché di questi periodi qua non è semplice e quindi io spero di arrivare a quei numeri lì. La prova è molto molto tecnica e molto selettiva perché è un po' veloce, ci sono delle curve veloci, ci sono delle curve anche dettate abbastanza lenti, però diciamo che è tutta roba molto tecnica di traiettoria, quindi dopo con fondo sterato, fondo sterato lo sappiamo che comunque deve piacere, se piace ti si diverte e non è per tutti, quindi anche lì è una cosa abbastanza selettiva a livello di partecipanti. Io come dico voglio ringraziare in primi la provincia di Udine, l'assessore Mattiussi e anche il presidente del consiglio Fabrizio Pitton che mi hanno proprio sostenuto proprio anche per poter andare a portare sulla villa e poi ringrazio i sindaci di Rivignano, i sindaci di Varmo, il sindaco di Codroipo e poi tutti gli sponsor che ci sostengono, principalmente abbiamo Fibranet, abbiamo Sparco e abbiamo ZLG Cuciture, questi qua sono i partners. Dopodiché senza l'intento abbiamo anche tutti gli sponsor minori che comunque anche grazie a loro collaborano e ci danno una mano per la riuscita di questa edizione, perché senza il loro contributo, piccolo o grande che sia, la manifestazione non si arriva a farla. A livello pubblico si può dire che sabato ci sarà lo shutdown, test con autovetture a Santa Marezza, Santa Marezza nel comune di Varmo, quindi si può arrivare proprio dal centro del paese, Santa Marezza, dalla piazza si prende 200 metri e si arriva su un'inversione a gomito che è un punto spettacolare in cui lì faranno anche traversi i numeri che partecipano, quindi è molto bello. Per quanto riguarda invece la prova di domenica, lì abbiamo tanti punti, come dicevo, si può arrivare a Rivignano e si può scegliere dalla piazza, ci sono 3-4 stradine e vie che portano in prova, si può andare dalla zona industriale di Rivignano, si può andare dall'ASP, dalla ferata che va verso un'inversione sulla prova, si può entrare da Teor, sono tutti comunque accessi che sono segnalati sulla cartina generale che abbiamo sul nostro sito, oppuramente sono indicate anche lungo la strada e comunque a breve passo parcheggiare nel giro di 500-700 metri uno è in prova tranquillamente. Grazie a tutti.